Ciao Matt! Siamo qui per il Vocalist Live Harmony che è completamente nuovo. Hi Matt, siamo qui per il Vocalist Live Harmony che è completamente nuovo. Puoi dire cosa ha questo nuovo ragazzo nella linea? Il Vocalist Live Harmony è applicato il Live 3. Il nuovi strumenti sono che ha lexicon reverbs e dbx mic preampi, e anche dbx anti-feedback. Ha tutti i nuovi effetti. Abbiamo il corso, flangere, distorsione, tutto per il vostro vocale. E un nuovo nuovo strumento è quello che si chiama Live Adapt. Ciò che fa il Live Adapt è che c'è un microfono qui, e questo microfono può ascoltare la musica che sta giocando, e può aggiungere i effetti di tempo con la musica che si chiama. Quindi quello che può fare è che, con i vostri delay, può ascoltare il beat di la musica e può aggiungere i delay al beat di la musica automaticamente. Quindi senti il delay e si sincronizza automaticamente alla musica che stai suonando, in più sostituisce il Live 3 e ha il reverbero lexicon e l'effettistica per la voce della dbx. Ci fai sentire qualcosa? Puoi lasciarmi ascoltare qualcosa? Sì. Allora faccio un'harmonia di tre parti, e poi faccio un'harmonia di femminile, quindi avrò un male e poi avrò una femminile. All'organizzazione è tre parti, ci sarà parte maschile e femminile. Allora femminile. Allora femminile. Allora femminile. Allora femminile. Do I really feel the way I feel? Matt grazie davvero. Ciao.